Ciao, mi chiamo Mon, ciao sono Gabriele, sono lo sceneggiatore e io la regista. Dal Vangelo secondo Giovanni, Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrande adulterio. Ora, Mosè, nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu, che ne dici? Grazie. 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 Grazie Mar角oni. Ilvityvolo per momento, ci vado io. Adesso che ci penso, l'ho preso in piazza Plebiscito. Ieri da quelle parti. Perché è in piazza? Lì di passaggio. Ero la prima volta che ci andavi? Sì Non so se la tenete corta, ma è un po' di tempo che il burro è diverso Assaggia Oh Assaggia Com'è? C'è un po' di Lassami 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 E' solo una ragazza che ha bisogno di magia E sa che il tempo ha fretta di fuggire altrove Ed è obbligata a crescere Ma che bisogno c'è? Lui cerca nei suoi occhi una scintilla vera Un fuoricampo capita una volta e poi chissà Ma i sogni sono liberi E poi che male c'è?